Siamo con Roberto Brandazzi dell'associazione Lele Forever. Roberto, il vostro trofeo, che è in memoria di Lele, qui a Monza, come è andato? È finito, vero, oggi? Sì, come tutti gli anni noi ultimiamo il nostro memorial in ricordo di Lele il sabato sera per poter fare le premiazioni la domenica senza poi incrociarci con le premiazioni ufficiali della rally di Monza. Quest'anno abbiamo avuto 39 adesioni su 82 partenti, quindi un buon risultato. Ci ha fatto molto piacere anche che abbiano aderito alla nostra iniziativa i due equipaggi turchi. Tanti italiani magari ci hanno un pochettino snobbato e invece i turchi, pur non sapendo, non conoscendoci, hanno capito al volo il nostro messaggio, che è un messaggio di solidarietà. Di fatti tutto quello che abbiamo raccolto con le iscrizioni di questo memorial Lele andrà a favore del progetto che abbiamo appena ultimato di costruire, che è casa Lele Lori, ma che dobbiamo ancora ultimare di pagare. Quindi sono tutti i fondi necessari. Per quanto riguarda la parte sportiva, mi hanno consegnato adesso le classifiche dopo la prova speciale 7, e quindi nella VRC ha vinto Capello, secondo Bontempelli e terzo Fontana, mentre invece nella Super 2000 ha un podio classico Andreucci Rossetti e sono contento che al terzo posto si sia classificato proprio l'equipaggio turco di Isic. Poi nella R3C abbiamo avuto Bendotti, Baldassare e Tosini e nella N4, dove abbiamo fatto classifica, si è classificato Cominelli seguito da Belli e da Scarpellini, mentre invece la R4 a Tagliani come premio assoluto. Bene, si conclude così questa nostra fatica. Domani mattina avremo dalle 9.45 alle 10.30 le premiazioni di tutte le classi all'Exhibition Area, ospiti di Radio Monte Carlo e un ultimo ringraziamento di dovere all'autodono di Monza che ci dà sempre la possibilità di ricordare Lele in questa sua grande passione che ha avuto quando è stato in vita.